Benvenuti! Vi avevo promesso delle novità ed eccole qui. Allora, ho allestito un piccolo, ma piccolo spazio, un piccolo set per la registrazione dei miei video o per meglio dire, dei miei approfondimenti, perché adesso in questo periodo di cambiamenti ci saranno tanti altri cambiamenti che conoscerete poi nel futuro. Questo è il primo. Vi presento il mio laboratorio dove io andrò ad analizzare e a studiare e a mostrarvi tante ma tante ma tante novità tecnologiche che non saranno più legate solo al mondo della fotografia e del video, ma anche dello smart e del tech. Fermi tutti. Non mi sto allontanando da quello che è la mia professione, da quello che è il mio cuore, da quello che è il mio core business, come direbbero gli inglesi. Ma mi sono detto, oggi è possibile fare fotografia e video, o meglio, creazione di contenuti digitali con tantissime cose. Non c'è soltanto più la macchina fotografica o la telecamera che fanno video o fanno foto. Oggi ad esempio ci sono anche gli smartphone che fanno foto e video. Allora perché non analizzarli? E così da lì ne sono uscite tante altre. Ho avuto una serie di idee e mi sono detto, ah perfetto, quindi metto in piedi un bel laboratorio dove testare tutte le mie folli idee in ambito fotografico, video o di creazione di contenuti digitali in qualsiasi loro forma. Perché infatti qua parliamo di creazione di contenuti. E anche un po' di tecnica, perché dai, diciamoci la verità, ci piace la tecnica. Quindi in questo video voglio introdurvi a questo mio mondo, a questo nuovo angolino. Avete visto un vlog un po' di tempo fa dove vi mostravo che mettevo pannelli fonoassorbenti un pochino in giro per quella stanza che purtroppo non hanno ottenuto il loro risultato sperato. E quindi vorrei farvi tanto vedere in che situazione sono in questo momento. Sto registrando con quattro microfoni diversi e spero che l'audio si senta bene. O almeno spero che non mi uccidiate. Infatti ho messo il microfono quanto più vicino, anzi lo avvicino ancora di più, così siamo sicuri che la voce diretta non rimbalzi sulle pareti. Proprio sicuri, sicuri, sicuri. Questo è un nuovo format. Ora voglio introdurvi a questa parte, a questa tipologia di video, che naturalmente, io sono sempre Luca Uletta, avevo intenzione di aprire un nuovo canale per realizzare questo genere di contenuti, ma non l'ho fatto perché tanti di voi mi conoscono e vogliono ascoltare le mie opinioni e chiedono il mio parere. E probabilmente è meglio che sia così, è meglio che voi abbiate una persona di riferimento che vi risponde alle vostre domande, che vi segue. È meglio non creare troppa confusione, mettiamola così. E quindi ho messo in piedi un format che è questo. Quando ci sediamo a questa postazione, in teoria, perché poi di sicuro capiterà che farò tanti altri video su questa postazione dove non faranno parte di questo format. Questo format si chiama Camera Lab. Ora, Camera Lab non sarà soltanto un format su YouTube, sul mio canale YouTube, ma sarà anche una piattaforma, una piattaforma web dove troverete anche dei contenuti. Ora, non vi dico ancora il sito perché già ce l'andate, altrimenti non è ancora pronto. Ma nel momento in cui sarà pronto, faremo una bella inaugurazione e lì troverete tanti contenuti gratuiti, troverete tanti videocorsi, troverete delle cose molto particolari che sto preparando e purtroppo c'è tanto tempo per prepararle. E poi troverete naturalmente riassunti tutti i video che sto realizzando e non solo perché è probabile che anche qualcun altro si unisca al team. Ma troverete naturalmente anche una parte di blogging. Blogging che parte dal mio sito web personale e sposterò completamente su Camera Lab. Camera Lab che comunque rimane un mio progetto, non sarà un progetto editoriale, quindi rimarrà un format e partirà, nascerà e rimarrà un format legato al mio canale YouTube sperando un giorno di riuscire a diventare così tanti da dover aprire un altro canale perché YouTube mi fa chiudere, mi fa chiudere per troppi iscritti. Non ci credo neanche io, ma chissà, non si può mai sapere. Quindi volevo mostrarvi il nuovo set. Spero che vi piaccia, spero che l'audio si senta bene. Questo oltre ai cani che purtroppo ogni tanto urlano e ululano e purtroppo non posso farci nulla. Quindi per oggi è tutto. Se avete dei consigli da darmi, io sto allestendo qui alle mie spalle il set ho comprato degli oggettini che fra poco arriveranno mano a mano li spacchetteremo insieme mi sono divertito tanto su eBay, tanto, 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 tanto però qui sopra qua ho un po' di ricordi non so se si vedono, ma ho qualcosa coperto dalla mia testa infatti le cose che sono coperte io dovrei spostarle ai lati che sono vuoti. Insomma ragazzi, spero che questo piccolo video di introduzione vi sia piaciuto il prossimo arriverà domenica praticamente dove andremo a parlare di una cosa molto interessante in verità ce l'ho già qui perché sto rivistendo il video lo stesso giorno cioè faccio proprio uno spoiler no, non ve lo mostro ancora no, ce l'ho qui, ce l'ho qui, ce l'ho qui qui, qui, esatto, qui sotto qui non ve lo mostro ancora perché voi non ti siete ancora iscritti e non hai ancora messo mi piace allora una volta che hai commentato, che ti sei iscritto che mi hai seguito sugli altri social allora io ti mostrerò di che cosa parleremo la settimana prossima ah io aspetto, non vado di fretta insomma ragazzi, cosa altro dirvi spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia intrattenuto un pochino seriamente noi ci vediamo a fine settimana con il primo video di questa serie e parleremo di questa grazie a tutti Grazie a tutti